Führer, stanno partendo dei Pullman da Berlino, tutti pronti per assistere al nuovo spettacolo dell'amfiteatro. Siete sicuri che la loro destinazione è Napoli? Ma i Führer, siamo certi, non siamo sicuri del numero, ma sono tantissimi. Tutti diretti al Bolivar. Quindi l'amfiteatren è pronto per un nuovo spettacolo. Avevo dato un ordine! Avevo ordinato a Steiner di sterminarli! Voi pensate che loro daranno uno spettacoluccio? A questo punto è tardi! Le prove sono già un buon punto! Mancano meno di un mese! Ma i Führer, gli brucieremo nel teatro! Zitto che bruci! Ma i Führer, ma cosa dice? Già sopportato tutti i loro successi, come la fortuna con la F in maiuscola. E poi sabato, domenica e lunedì. La gente si è divertita da morire con scarpe doppie e cervello fine. Che stanno preparando? Cosa? Cosa? L'ultimo scugnizzo di Viviani? Degli scuglizzi ne hanno parlato in tutto il mondo! E sanno cantare! E la musica? Non è possibile! Anche la musica dal vivo! Che Natale! Che Natale sarà mai! Che Natale sarà mai! Il 13 e 14 dicembre al Teatro Bolivar! È un ordine! Procuratemi due biglietti in prima fila! 13 e 14 dicembre al Teatro Bolivar!